C'era un esco che veniva dando, c'era vista, aggiuntese? C'era un esco che veniva, ma mica tutti l'anno. Io l'ho visto una volta più un esco quando l'ho aggiunto. Non mi ricordo più che annoi, perché era di dentro, ma l'ho visto una volta. Eh beh, io già ho avuto un ritratto che dovevo, se l'ho visto accanto. Eh beh, c'era stata dando. Quanta, sì, è così. Eh beh, è così, è così. Ma io l'ho detto, è riquadro. Eh, eh, eh. Monsignor Rodier mi si parla. Ecco. Eh, qui? Questo è così. Dopo qui è stato il Monsignor Lozà. Eh, eh. C'era una foto che non c'è a consumire. Eh, eh, perché veniva con la vettura di Ponteilano. Eh? E dopo Ponteilano non ha cercato a consumire, non c'era stato. Ponteilano. E tu l'hai visto fare la strada qui? Sì. Come si è passato l'affare? Un anno ha cominciato, non c'era nulla nulla? Non c'era nulla nulla, non c'era nulla nulla. Se quell'a che era Cusumera, Cusumera. Cusumera. E io l'ho conosciuto quando era qui in vacanza, il Zitello, con l'Aubane, con l'Aubane, con l'uovo bene a cavallo la mura, con l'uovo bene a cavallo la mura la carne era la stessa, non si era cavallo la mura e la carne non si tenia mica tanto, come si faceva a fare? faceva bene la carne, faceva una canciata e la mangiavano giù mangiavano giù se lo faceva appena a prendere ciò che ci chiamavano le carne di mangi in cantina qua, non si tenia tanto e tanto c'erano i giardini? sicuro c'erano i giardini, i giardini erano tutti lavorati perché era un complemento per niente e le castagne? le castagne erano venute per fare il paese ma la castagne è un lusso guardando i giardini erano i giardini e le rade erano in paese e beh c'è sempre i giardini qui c'è sempre la muta nuda ma c'è più poche in paese e i giardini erano sempre pieni di castagne le castagne erano i giardini e poi li hanno secca perché ce la fa averina e tutto eh c'è la vostra che è quella di mettere qua su? e questo è un uomo non sono mica delle gine elettrico quelli avevamo cucinato acqua su di robone qua e questa qui che quando avevamo piato questa casa che avevamo conservato la casa perchè... dice... un... diceremo è un affare storico qua di Italia e, 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 e Grazie a tutti